Buonasera a tutte e tutti, benvenuti ancora e benvenute al Park Nord dello Stadio Uganeo di Padova, terza ed ultima serata in cui parleremo di Genova. Abbiamo affrontato il 19 luglio un dibattito dal tema Genova, vent'anni dopo, tra narrazioni e immaginari. Ieri abbiamo parlato di radio e come le radio di movimento hanno raccontato quella che è l'esperienza di Genova. Oggi parliamo di storiografia con il dibattito dal titolo Genova, vent'anni dopo, una storiografia contesa. Il terzo appuntamento non può che cominciare ricordando la grande manifestazione del 21 luglio del 2001, che nonostante tutto quello che accadde il 20 luglio nelle strade di Genova e soprattutto in piazza Limonda, in maniera convinta e determinata, decise e scelse di tornare in piazza a Genova. Non possiamo che non ricordare quello che accadde la notte tra il 21 e il 22 luglio alla scuola Diaz e successivamente a Bolzaneto. In questo mese che ci ha accompagnato a questa ricorrenza del ventennale di Genova, ne abbiamo sentito a raccontare davvero tante, dai giornali mainstream, da chi in quelle giornate a Genova c'era. E ha parlato anche la magistratura, la magistratura ha continuato a sentenziare. Infatti la sentenza della quinta sezione, i primi giorni di luglio, ha messo la parola a fine a chi ha fattivamente eseguito il blitz alla scuola Diaz. Nessuno andrà in carcere, per qualcuno ci sarà un'interdizione dei pubblici uffici e prescritta è stata la condanna per lesioni. Una settimana dopo il paradosso è quella che invece arriva il verdetto della Cassazione per il processo contro i dieci manifestanti accusati di devastazione e saccheggio. Pena confermata in appello per due imputati e agli altri otto comunque è stata riconosciuta il crimine, tra virgolette, di devastazione e saccheggio, quindi il reato del 419, del comma 419. Quello che avviene quindi che ancora una volta la narrazione ci mette di fronte i danneggiamenti che ci sono stati a Genova versus quella che invece è stata la violenza fisica e addirittura l'uccisione di Carlo che c'è stata invece da parte delle forze degli ordini. Quindi l'ingiustizia, mi viene da dire, ancora una volta è stata fatta. In Italia abbiamo ancora tante ferite aperte, soprattutto in occasione delle ricorrenze, abbiamo ancora a che fare, dobbiamo purtroppo ancora a che fare con quelli che sono i conti del passato. Accade quando parliamo di resistenza, parliamo di 25 aprile, accade quando parliamo degli anni sessanta, degli anni settanta, troppe ferite aperte. E accade per quelle esperienze che sono state storicizzate in un certo senso, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale sono sicuramente degli eventi storicizzati. Immaginiamoci, figuriamoci invece per degli eventi che ancora non sono stati storicizzati perché avvenuti vent'anni fa. Questi momenti però producono tantissime testimonianze, tantissimi racconti che sono anche a volte difficili da sintetizzare e da anche a volte forse raccontare, all'interno di quella che è la classica analisi storica e storiografica. Oggi tenteremo, inizieremo a parlarne, a porci appunto queste domande, lo vogliamo fare con Gabriele Proglio, autore del libro I fatti di Genova, una storia orale del G8, e Marco Filopat, autore ed editore, sempre attento rispetto a quelli che sono i movimenti sociali in Italia e la cultura underground. Intanto vi ringrazio per essere qui stasera con noi. Partirei Gabriele da te. Nel tuo libro ci sono tante parole, ci sono tanti racconti e in queste settimane sono state tante le parole che sono state utilizzate per descrivere quello che è stato Genova. Tanti sono stati anche i racconti per immagini, prima le abbiamo visti un po' sul nostro televisore, Genova è la prima esperienza in cui le immagini parlano tanto. Io ti chiederei qual è secondo te una o più parole chiave che secondo te in questo periodo non sono state utilizzate e che invece può essere la chiave per raccontare quei giorni. Grazie dell'invito e grazie della domanda. Io parto da un'immagine che è evocata da tantissime persone nel libro, un'immagine che riguarda vent'anni fa e in particolare il 20 di luglio. Gli scontri, l'uccisione in piazza di Carlo Giuliani, le televisioni che raccontano lo scontro andando a puntare il dito su quelle persone che stanno attraversando le piazze e poi ancora l'appello di Dini, che va, lui al tempo era vicepresidente del senato, che va in televisione e dice a tutti, cosa unica che non accadeva dagli anni 70, che dice a tutti e a tutte domani a Genova non andate. Parla alle persone che potenzialmente potevano muoversi a andare a Genova. E io ricordo quella sera, dopo le assemblee, dopo i pianti, dopo gli abbracci, dopo le parole con i compagni e con le compagne, dopo moltissimi dialoghi, che la domanda era domani ci saranno in piazza delle persone. Ecco, quella sera succede qualcosa di particolare, perché non migliaia, ma centinaia di migliaia di persone da ogni parte d'Italia decidono di andare a Genova, nonostante quello che è successo, nonostante l'appello di Dini, nonostante che fosse stato ucciso Carlo Giuliani o forse cambiando lo sguardo proprio per quello, proprio perché per tutto quello che era successo bisognava essere a Genova. Ecco, quel momento che non è raccontato dai media, secondo me si chiama resistenza, ed è un modo di scendere in piazza che non è unico, è legato ai tanti percorsi delle persone che arrivano a Genova. Genova non è una sola, le soggettività sono molteplici, il libro è diviso tra le partenze, dove ci sono le ragioni per cui le persone partecipano, vogliono andare al G8 a lottare contro la globalizzazione, poi le giornate e poi il ritorno. Ecco, quel tentativo comunque di essere a Genova, cito Marida per esempio, che non fa parte di nessun tipo di organizzazione, o Eric, anche lui, non fa parte di nessun tipo di organizzazione, è una persona che è semplicemente attenta ai temi della globalizzazione e vuole lottare contro la globalizzazione, decide in quel momento di andare a Genova. Quella è resistenza. Il libro, lo dicevo prima con Marco, è centrato su un racconto che prende le distanze da due tipologie di narrazione che sono state profuse in tutti questi anni, in questi vent'anni. Da una parte il vittimismo, Todorov dice la vittima può ricordare solamente come vittima e quindi non si muove di lì. Dall'altra il reducismo, cioè il fatto che chi ha sperimentato una battaglia in qualche maniera la narra come un momento che è stato unico e in qualche maniera, poi c'è tutta la parte divisiva di Genova, cioè che anche la memoria come strumento collettivo, parola d'ordine o termine che è stato cognato, in qualche maniera ha costruito memorie divisive di Genova. Il lavoro che ho fatto è andare a recuperare le tante soggettività e quindi all'interno del libro ci sono persone che vanno dai movimenti non violenti ai black bloc, passando per tutte le altre piazze tematiche e raccontare le loro esperienze di Genova. Quindi secondo me è il centro di tutta questa cosa in maniera eterogenea, ovviamente resistenza è quello che tiene assieme, ma in maniera eterogenea è il tentativo di essere comunque lì, di spostare il piano e questo dà anche uno sguardo sul dopo, moltissime persone continuano dopo Genova, Genova non è la fine, è uno snodo che continua poi ancora dopo, dopo il 21 luglio. Grazie Gabriele. Filopat, nella mia introduzione ho parlato delle ultime sentenze che riguardano Genova e in un certo senso queste sentenze hanno riproposto ancora una volta il solito copione tra i buoni identificati con le forze dell'ordine che erano lì per difendere gli otto potenti che si erano rinchiusi all'interno di una zona rossa, adesso ormai siamo tanto abituati ai colori rosso, giallo, è lì la prima volta che sentiamo parlare zone rosse, zone gialle e quindi un copione già scritto tra buoni e cattivi, tra vale più una vetrina o la vita di un ragazzo. Cosa pensi rispetto a quella che è stata la narrazione in questi vent'anni e soprattutto la narrazione di quest'ultimo periodo rispetto a quello che è successo a Genova in quei giorni? Sì, innanzitutto voglio ringraziare Sherwood che mi ha dato la possibilità di esporre un po' le mie idee anche perché sono stato a Genova l'altro ieri, ero domenica e lunedì, sono stato a Genova e la questione reducistica o vittimistica era all'ordine del giorno e quindi a un certo punto sono andato alla manifestazione dovevano venire i zappatisti, non sono venuti i zappatisti e c'erano solo i reduci sostanzialmente, con il circo, il clown della stampa che invece faceva un discorso sul vittimismo quindi ho preferito andare al mare e farmi un bagno. La stessa cosa mi è successa il giorno dopo all'assemblea, ho resistito solo 20 minuti e quindi è insopportabile insomma un po' questa memoria che si sta facendo su Genova in questi giorni perché poi è proprio di questi giorni la questione. Oltre alla parola resistenza io dicevo che nel tentativo di fare una memoria un po' condivisa su Genova manca la parola conflitto, il conflitto che in qualche modo il movimento legato ai centri sociali allora era riuscito a porre come questione. Nessuno ne parla ma in realtà la narrazione di tipo mediatico dice sì il movimento è finito là dicono però le loro parole d'ordine sono state importanti anche perché dopo la pandemia te credo l'ecologismo, la questione delle migrazioni, la questione anticapitalista, il brand e quant'altro sono ormai decisamente all'ordine del giorno e noi l'avevamo detto vent'anni fa però per fare emergere queste parole d'ordine, questi obiettivi c'era stato bisogno di un conflitto, un conflitto che nessuno ne parla più. Il conflitto era partito a livello storico sicuramente due anni prima con Seattle 1999. Adesso sto parlando molto per quanto riguarda noi, il movimento nostro, almeno per come l'ho vissuta io e quindi mi avevano proposto come agenzia X diversi titoli però non ce n'era uno che riuscisse a ragionare sulle dinamiche del conflitto che si erano create dal 99 al 2001 che secondo me invece anche perché la memoria è uno strumento che se non si fa carne, se non si fa azione del presente non vale molto e le dinamiche del conflitto all'interno di tutti quei dibattiti che si sono creati dal 99 al 2001 sono molto interessanti però c'è il fatto che non riescono mai a venire a galla, io spero che il libro che io non ho letto di Gabriele che però mi piacerebbe leggerlo perché mi era arrivata anche la notizia ma tra le mille cose di cui sono stato coinvolto nel post pandemia non ho avuto tempo di leggerlo ma sicuramente lo farò perché quello comunque parla di testimonianze orali vere, carne, che in qualche modo cerca di elaborare anche i termini, la cosa più che mi viene in mente sulla domanda che mi hai fatto, buoni e cattivi, all'interno del movimento questo si era creato, non tanto quello che diceva Dini o diceva il mainstream, che tanto eravamo tutti cattivi quelli che arrivavano là per loro, ma all'interno nostro, io ricordo che sono andato una settimana prima ero andato al Carlini, ero stato tra quelli che l'avevano aperto, il Carlini, proprio il lunedì, e lunedì, martedì, mercoledì ci sono state, come potete immaginare, tantissime riunioni e queste riunioni si basavano su diversi tipi di strategie che il movimento proponeva, era tutto al Carlini in quei primi tre giorni e credo che bisognerebbe andare a vedere bene quello che è successo in quei tre giorni per capire magari anche gli errori che sono stati fatti o anche le idee buone che invece erano uscite fuori in quei tre giorni. Adesso non so se è il caso di tirar fuori un po' la mia idea di quello che era successo rispetto anche alla mia esperienza, ma credo che il punto fondamentale sia lì, in quel momento, soprattutto adesso che siamo in una fase completamente diversa e sostanzialmente la questione, per farla breve, era un movimento che aveva ancora un piede negli anni 70 e un altro movimento che forse era troppo avanzato per quel momento l'istorico. E lì c'è stata un po' una rottura che non so come sarebbe andata a finire se non ci fosse stata questa rottura, questo non lo so. Io solo che mi sono trovato un po' in mezzo in quanto punk, anarchico, pure pacifista in quel momento e quindi in quel momento non l'avevo capito, anzi il conflitto si è creato dentro di me. Infatti il giovedì mattina mi sono risvegliato in una tendina del Carlini con 38 di febbre e probabilmente il conflitto era tutto dentro di me. Però sarebbe interessante fare dei ragionamenti proprio tra queste due componenti che in qualche modo dopo Genova hanno preso delle strade un po' diverse sia da una parte e dall'altra e c'è stato anche un minimo di convergenza e su questo devo dire che le culture dell'underground invece sono riusciti a creare dei lacci, dei ponti tra le due questioni che magari ne parliamo dopo. Grazie. Tra le tante cose che hai detto mi piace sottolineare quanto la memoria è fondamentale ed è importante se nel presente si crea qualcosa, si crea azione per portare avanti quella memoria ed è quello che stiamo tentando di fare da qualche mese a questa parte con il neonato centro studi trovate alle mie spalle il banner Open Memory, proprio una memoria viva, una memoria che continua a camminare dagli anni 70 in poi, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. C'eravamo, ci siamo e ci saremo. È importante interrogarsi rispetto a quello che è stato il passato, quella che è la memoria, ma è importante fare concretamente qualcosa per continuare a lottare e per cambiare questo mondo. Gabriele, nel tuo libro i fatti di Genova lasciano lo spazio al racconto. La peculiarità che ne parlavamo prima durante l'intervista in cui abbiamo un po' presentato il libro del tuo racconto appunto è quello che si parte dai racconti di chi è partito dai propri territori, quindi si raccontano le esperienze territoriali di tutte quelle persone che sono andate a Genova. Ci sono i racconti delle tre giornate clou di Genova che hanno una potenza infinita, con le parole veramente si riesce ad immaginare quello che avveniva nelle strade di Genova nonostante magari qualcuno non fosse lì. E soprattutto anche il ritorno, questi racconti di chi torna a casa e che torna a casa non da sconfitto. Perché la scelta di utilizzare lo strumento, tra tante virgolette, della storia orale e quanto è utile utilizzarlo per raccontare un'esperienza particolare come quella di Genova e quale se c'è tra i tantissimi racconti, se c'è un racconto che ti ha colpito di più? Grazie alla domanda. Io parto da una questione proprio metodologica ma che poi è pratica e politica e anche costruisce in qualche maniera qualcosa che è legato, come diceva prima Marco, al concetto di conflitto. Allora proviamo a pensare a come oggi sia possibile fare una storia del G8. La storia del G8 attraverso le fonti, con la metodologia, quindi con la scienza storica si può fare attraverso i giornali, attraverso i documenti della polizia, attraverso i documenti delle istituzioni, attraverso i video, attraverso le trasmissioni radiofoniche, televisive, insomma attraverso queste fonti. Però queste fonti in qualche maniera, se si va a vedere le voci che hanno prodotto queste fonti, e il primo capitolo è dedicato proprio a questo, tutte queste fonti, o meglio tutte queste voci hanno prodotto delle fonti che andavano in una direzione specifica. Cioè da febbraio inizia il tantam mediatico sul G8, e tutte le testate, le maggiori testate nazionali, iniziano a parlare del G8 costruendo il conflitto, o meglio costruendo lo scontro, non il conflitto. In che maniera? Parlano dei contingenti militari, ci sarà la folghere, ci saranno i reparti speciali, ci sarà la celere, poi le batterie antimissilistiche per proteggere gli otto grandi, poi la zona rossa, poi parlano di radar, poi parlano di quello che può succedere a Genova e cosa può succedere. E qui succede l'inimmaginabile, cioè giornalisti di testate differenti utilizzano la stessa notizia e la riprendono, una centrale, tanto per dire a livello di immaginario, è quella del sangue infetto di IDS buttato sulla polizia, no? Oppure un'altra, e questa notizia gira su tutte le testate, non è che compare solamente la prima volta sul Corriere della Sera, va ovunque, stampa, repubblica, eccetera. L'altra notizia pazzesca è quella che, data sempre al Corriere della Sera, che Osama Bin Laden avrebbe programmato un attacco agli otto grandi ingaggiando dei nazi skin che sarebbero loro gli esecutori di questo attentato, cioè cose anche pazzesche ma che fanno crescere il livello, diciamo, della tensione. E poi si aggiunge qualcosa di molto più pesante, cioè 200 body bags che arrivano a Genova e poi ancora metà del carcere di Malassi svuotato per tenere le persone che verranno arrestate e poi un pool di magistrati che viene assoldato per giudicare indirettissimo. Allora, fare il lavoro sulle fonti, su queste fonti, vuol dire riprodurre la stessa identica storia delle persone che hanno progettato quello scontro. Invece le fonti orali permettono di fare una storia dal basso, attraverso lo scambio intersoggettivo. E qui c'è anche un'altra questione, cioè il fatto che la fonte storica tu la costruisci nel dialogo con l'altra persona. Ed è qualcosa, non è solamente più la mia storia o la tua storia, è la storia che appartiene un po' a tutte e a tutti. Aggiungo una questione. Il dopo Genova è stato raccontato come la fine, la fine della storia, la fine dei movimenti, la fine di una generazione. Cioè Genova è stata legata alla mia generazione, alle persone che avevano 20, 25, forse anche 30 anni a Genova e è stato detto a Genova è morta quella generazione, a Genova è finito tutto. Ecco, se si va a leggere quel momento, si capisce che sì, il movimento si esaurisce e finisce nel 2001 e poi forse nel 2003 quando c'è la grande manifestazione di Firenze, perché quello è l'ultimo passaggio, ma le storie personali continuano e qui ne cito alcune. La storia, per esempio, del movimento Notav, questo è fondamentale perché la prima bandiera del movimento Notav arriva in piazza proprio a Genova. c'è il racconto di più persone che dalla Valsusa arrivano a Genova e si beccano il corteo del 21 luglio e le cariche sul lungomare. Oppure ci sono le storie delle persone che hanno iniziato dopo il 21 luglio a fare militanza, una astuta e chiara, che fino a quel momento era vissuta a Parigi, decide di ritornare in Italia, voleva abbandonare il suo paese, decide di tornare in Italia perché c'è Genova e poi a Genova capisce che non si può più tornare indietro, che quello è lo snodo fondamentale per iniziare la sua militanza, inizia la militanza all'interno di un centro sociale. Oppure ancora di una persona, Di Luca, che partecipa senza nessun tipo di appartenenza politica ai cortei del venerdì e poi del sabato e poi dopo tutto decide di continuare a interessarsi e a lavorare con i migranti. Gianluca, che è un avvocato del Legal Forum, vede l'omicidio di Carlo Giuliani in diretta, in quel momento in Piazza Limonda, sta uscendo fuori dalla sede di Lega Ambiente, dove c'è un meeting di tutti gli avvocati, sente i due colpi, si avvicina alla polizia che ha già fatto il cordone nel frattempo, la polizia chiude i piedi per non far vedere il corpo di Carlo, cerca di interloquire con la persona che gestisce la piazza, viene cacciato via, viene manganellato. Lui da quel momento lì deciderà di continuare la sua militanza contro i CIE e i CPT, aiutando le persone migranti. Ci sono altre storie che sono legate a, come posso dire, anche a quello che è successo alla Diaz e Bolzaneto. Un ragazzo di Cuneo, Andrea, che arriva a Genova, anche lui ha delle simpatie, ma gira nell'ambito punk anarchico, non frequenta i centri sociali o gli spazi, gli squat di Torino e del Piemonte, arriva però a Genova senza nessun tipo di affiliazione, gruppo di appartenenza, prende un caffè aspettando il corteo, un celerino lo prende, lui non ha fatto niente, è in mezzo alla strada, lo prende per un braccio, lo porta via, lui viene fermato, arrestato e portato a Bolzaneto e vedrà quello che è successo a Bolzaneto. Quindi tutte queste storie, secondo me, sono conflittuali. Per quale motivo? Perché rispetto alla narrazione unica fanno vedere che, non in una maniera sola, ma in molteplici modi, tutte le 80 persone intervistate, io non pensavo questo, io pensavo che ci fossero molti che alla mia domanda il dopo Genova, com'è per te, mi rispondessero, per me il dopo Genova è la fine. Tutte le 80 persone raccontano il dopo Genova come una continuazione. Questo, secondo me, dà bene la prospettiva di due sguardi diversi, no? Di quello mainstream che ha raccontato Genova fino adesso e degli sguardi invece delle persone che hanno vissuto Genova. Tante storie, e tante storie diverse che raccontano esperienze e vite diverse. Marco, tu in un tuo reading racconti 30 anni di storia che precede Genova e che arriva fino a Genova. E mi ha colpito perché metti al centro due aspetti fondamentali. Uno, quello della battaglia, della guerra, e quello della ricchezza di quella moltitudine presente a Genova. Perché definire Genova una battaglia e quanto questa moltitudine la possiamo definire anche la ricchezza di quel movimento e di quelle giornate? Sì, ti riferisci al libro che ho scritto insieme al Duca, Roma KO. e il Duca era in via Tolemaide, era proprio inserito nelle tute bianche, era al centro della battaglia. Un soggetto molto particolare, il Duca, perché è un capopopolo vero del gruppo dei Romani che era in prima fila in Tolemaide e quindi lui ha organizzato decine e decine di coatti. Perché ricordiamo, a parlare di moltitudine, ricordiamo anche che il movimento si è portato sulle spalle in quel momento centinaia e centinaia di ragazzini scatenati, soprattutto i Romani, per questo il Duca parla di una vera e propria battaglia, che non erano nemmeno troppo politicizzati, ma erano stati attratti da due questioni. La questione è che comunque dal 99 si stava parlando di queste tematiche che adesso sono all'ordine del giorno, come dicevo prima, e queste tematiche allora erano super moderne, molto avanzate, supportate da decine di intellettuali, da persone che erano dagli anni 70 che non riuscivano a parlare. Insomma, si stavano facendo belle radicali, l'attacco al WTO di Seattle aveva dato un'energia fortissima alle idee radicali che venivano curate come un piccolo fuoco dei centri sociali per tutti gli anni 90. E quindi c'era questa dinamica che aveva attirato tanti militanti in quel momento. Poi c'erano i centri sociali che erano stati occupati dovunque in Italia, ce ne erano tantissimi, attorno al 97-98 eravamo forse al massimo, a Milano ce ne erano soltanto una trentina, a Milano, poi a tutto dovunque, e anche nelle province più assurde. E quindi c'era questo grosso movimento che aveva fatto in qualche maniera, in maniera egemonia anche nelle periferie. E poi c'era stato il fatto che più si montava la questione anche i media avevano cominciato a interessarsi. Io mi ricordo delle riunioni alla Casa della Cultura, ad esempio, di Milano, due mesi prima di Genova, e che c'era delle gente che non mi immaginavo nemmeno, c'era tutta Radio Popolare, c'erano tutti quelli di rifondazione, c'erano gente con cui non erano mai riusciti a parlare, ad esempio. E poi c'era stato anche Napoli, poco prima. E quindi a Genova, lì in particolare, sul suggerimento che mi ha dato sulla testimonianza del Duca, c'erano veramente bande di scatenati totali che non era facile tenerli a bada. c'era stata pure la famosa dichiarazione che era una guerra, che forse quello è stato un po' eccessivo, perché alla fine non siamo riusciti a gestire nemmeno quella dichiarazione di guerra, diciamo. Di conseguenza, io credo che comunque era, ripeto, io sono un punk anarchico-pacifista, però ci credevo, ci credevo tanto che finalmente il conflitto potesse scoppiare, perché erano le parole d'ordine giuste, in quel momento si poteva dare una svolta. Aggiungo una cosa, nonostante tutto quello che era successo, la morte di Carlo Giuliani, la Diaz, Bolzaneto, io mi ricordo benissimo, nelle giornate dopo Genova, nelle settimane dopo Genova, che eravamo super gasati noi, tutti quanti, tutti quanti pensavano che finalmente, nonostante quello che era successo, o forse proprio per quello che era successo, le nostre tematiche sarebbero diventate ancora più forti. Il problema è stato, indubbiamente, l'11 settembre 2001, è stato quello il problema. E in questi giorni più volte abbiamo ripetuto come l'11 settembre ha messo a tacere tutto quello che si era costruito nei due anni precedenti, come giustamente ci ricordavi. Gabriele, la storia orale, anche rispetto a quello che ci hai detto nel tuo intervento precedente, ci aiuta da diversi aspetti a comprendere quella che è la complessità. Ci dicevi che per tante persone che hai intervistato e per tante persone che sono qui presenti, che a Genova avevano 30 anni, 40 anni, chi come me ne aveva 17, Genova non è stata una fine, ma è stato un inizio. Quanto è importante raccontare alle nuove generazioni, a chi a Genova non era ancora nato, raccontare quei giorni, raccontare quello che è successo in quei giorni, anche tramite un libro che forse per tanti giovani oggi è un mezzo non tanto utilizzato, purtroppo. Io penso che sia importante, però devo fare una precisazione, non nel senso di dare un'eredità di quelle lotte, perché se no poi qui c'è il passaggio pericoloso per cui chi è stato a Genova deve insegnare o dare in qualche maniera gli strumenti perché il conflitto ritorna in piazza. Il conflitto in realtà dopo Genova c'è stato e come? Parlo senza una visione eurocentrica, poi c'è stata l'Onde, sono state tante cose in Italia e in Europa, ma per esempio quello che è successo nel mondo arabo, quello Black Lives Matter, non una di meno partendo dall'America Latina, cioè sono state tutta una serie di mobilitazioni e di piazze che sono legate a, per forza di cosa, delle culture, a una cultura che parte dal basso e che si costruisce attraverso riflessioni che è fondamentale. Non bisogna, secondo me, io credo, lo dico forse a metà tra lo storico e la mia idea personale che poi alla fine sono sempre la stessa persona quindi è la stessa identica cosa, però non bisogna, in qualche maniera, io credo personalmente la mia Genova non la lascio come insegnamento. Quello che però è importante, l'insegnamento di Genova è il fatto di uscire fuori dalla traccia e mi spiego come tutte quelle soggettività, tutte quelle persone, nonostante i vertici del VTO, della Banca Mondiale, del G7, del G8, nonostante i mezzi che aveva la globalizzazione in quel momento, quindi i media, nonostante le multinazionali, nonostante tutto questo soggettività diverse, persone diverse sono uscite fuori da quella traccia e hanno costruito qualche cosa, hanno costruito tante cose, tanti percorsi, ecco, secondo me l'insegnamento di Genova è questo, è il fatto non che un altro mondo è possibile, perché poi qui anche io sono stato a Genova, no, e l'altro giorno, due giorni fa, il problema di ricostruire una Genova vent'anni dopo si rischia di in qualche maniera finire nel proporre di nuovo un evento che in qualche maniera replica quello che è stato a Genova in un contesto differente, invece no, secondo me guardandolo attraverso le storie delle persone che sono nel libro e tra l'altro quello che citavi tu prima esce nel libro a un certo punto in Corso Tolemaide c'è Alessandro del del gabrio il centro sociale gabrio che erano diciamo nello spezzone e dice chiaramente che c'era un gruppo ampissimo di giovani che non tenevano più che a un certo punto sono andati esatto esatto sono andati e hanno fatto hanno fatto loro quello che dovevano fare in piazza ecco uscire fuori dalla traccia da quello che è imposto sia nelle parole nelle riflessioni ma anche nelle pratiche secondo me è questo l'insegnamento di Genova ed è un'eredità che in realtà è stata già recuperata quello che forse è mancato fino ad oggi è far vedere che Genova non è la fine che dopo Genova le persone che sono state a Genova hanno continuato che c'è una continuità nella differenza che sono state altre cose che dall'ecofemminismo alla militanza nei centri sociali dall'associazionismo a altre forme della musica sono dei ragazzi dei compagni che dicono il mio impegno a quel punto è diventato raccontare la mia realtà attraverso la musica cioè ecco queste modalità di uscire fuori dalla traccia secondo me sono l'elemento fondamentale per capire che c'è qualcosa dopo Genova e c'è tanto dopo Genova e c'è tanto dopo Genova facevi riferimento a tante battaglie a tanti movimenti che ci sono stati dopo Genova e che continuano ad esserci nel quotidiano in questo momento stiamo contestando l'abbiamo fatto a Venezia due settimane fa succederà a Napoli stiamo contestando il G20 che sta avvenendo nel nostro paese e che continua a portare avanti quelle che sono le politiche che comunque anche vent'anni fa e gli argomenti di cui vent'anni fa anche si parlava hai parlato delle esperienze varie di chi si è messo a fare musica di chi si è messo a scrivere e chi ha continuato quindi a raccontare questi ultimi vent'anni di storia Marco tu ci hai raccontato e ci racconti il punk e ci racconti quella che qualcuno definisce la controcultura ma io definisco la cultura italiana e soprattutto quella degli ultimi decenni di questo paese qual è l'eredità che queste culture magari degli anni 90 dei primi anni 2000 lasciamo alle nuove generazioni tanto abituate a vivere sull'informazione istantanea sull'utilizzo dei social che hanno le storie instagram che durano 24 ore quindi l'importanza dell'istantaneità di quella che è l'esperienza di quella che è l'informazione quindi cosa lasciamo a questi giovani che questa cultura purtroppo non la studiano a scuola cosa possiamo fare per questi giovani non soltanto da un punto di vista politico ma anche sociale e culturale sì diciamo che nel dopo Genova ero arrivato all'11 settembre io nel dopo Genova c'è veramente un giro di vite repressivo che colpisce chiaramente le istanze più radicali e quindi subiamo un po' nel corso del tempo soprattutto 2002 2003 però alla fine ci si riesce a riorganizzare subito in particolare mi viene in mente le rivolte del 2006 nelle università che l'onda credo che si chiamasse quindi 2006 alla fine non erano passati molti anni c'è già una risposta forte che sarà un movimento di cui nessuno ne parla ma massacrato dalla repressione se vi ricordate con un sacco di compagni e compagni che sono state veramente costretti a subire le angherie giudiziarie nelle carceri oppure per questi processi che non finivano mai con un sacco di soldi nel 2006 quindi c'è già una una specie di piccolo risveglio che poi dopo si facerà nel 2009 quello che sappiamo è anche una delle tematiche fondamentali che era proprio di Genova ricordiamo che il giovedì c'è stata questa grossa manifestazione dedicata ai migranti che poi sono sfociati nelle primavere arabe che in qualche maniera a Genova aveva anticipato aveva sviluppato tu hai giustamente ricordato anche il movimento Notav di quel periodo che dopo nel 2012 sarà forse il momento più clou del movimento Notav oppure il protagonismo delle donne che lì stava proprio nascendo e che poi sicuramente dopo negli anni dieci sfocia in una cosa addirittura internazionale che ancora stiamo vivendo adesso per quanto riguarda le culture dell'underground che io preferisco chiamarle così le culture dell'underground io vengo da quella storia la nostra casa editrice agenzia X lavora in specifico sulle culture dell'underground perché crediamo che siano delle esperienze personali che possano far crescere far crescere dei soggetti che potrebbero diventare dei militanti è il punto focale tra il pre-politica e decidere di fare il militante perché i ragazzini comunque sono attratti per esempio dalla musica la musica come sappiamo colpisce le corde emotive più profonde nostre all'età di 12 13 14 anni è quello lì è il momento fondamentale e quindi le culture dell'underground lavorano su quel termine mi piacerebbe raccontare un po' quello che sta succedendo a Milano perché a mio parere questi 20 anni che comunque sono stati costellati da movimenti anche importanti che continuano a lasciare il segno anche perché hanno saputo creare conflitto e quindi vuol dire che all'interno della narrazione mainstream qualcosa hanno dato e probabilmente lo vedremo come al solito nel futuro come esattamente adesso vediamo le tematiche di Genova inserite questo però non possiamo dimenticare che noi siamo in una situazione di emergenza fortissima da più di un anno e mezzo quasi due anni ormai la pandemia ci ha costretto a porre una rottura grossa anche sia personale che ancora di più collettiva e non sappiamo nemmeno come tante volte adesso non sappiamo nemmeno come salutarci alle volte quello lì magari è troppo paranoico quell'altro troppo novax siamo in mezzo a un guado sostanzialmente e quindi le culture dell'underground che non 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 si attaccano troppo alla questione di carattere ideologico incrostazione di carattere ideologico che non badano troppo ai numeri grande corteo grande concerto grande festival no le culture dell'underground preferiscono un concertino di cento persone centocinquanta un po' troppo di già io vengo da conchetta io sono di conchetta e le culture dell'underground basta conchetta troppo dopo è troppo e e e proprio per questo motivo credo sia appunto questo attaccamento a una a una a a delle passioni forti che muovono potenziali militanti dal di dentro dalle corde emotive più profonde e dall'altra parte quella cultura che io chiamo materiale la cultura materiale che dicevi giustamente facebook instagram tiktok ancora sono cose fuggenti che scappano via le culture dell'underground hanno una passione pazzesca per il disco il vinile la fanzine la panzine il libro questo dovrebbe fare un attimo riflettere quanto siano importanti ma non solo quello perché io parlavo di concerti è un discorso un po' lungo che casomai ultimamente sto facendo tante per fortuna tante conferenze finisco sempre a parlare di quel poco che sta succedendo a Milano adesso fuori dai centri sociali tutto devo dire che sono anche qua in Veneto e quindi ancora più importante che io dico questa cosa tutto è partito dal premio dubito premio dubito è un premio dedicato ad Alberto dubito che nel 2012 si è suicidato lasciandoci delle poesie delle musiche dei video delle fotografie dei graffitti stupendi era eclettico artista dell'underground e da lì è partito questa questione del premio dubito e la prima cosa che si è stata fatta erano dei percorsi itineranti di poesia di strada già dal 2013 2014 è partito oltre al premio che invito tutti quanti a partecipare perché è un premio che sotto i 35 anni parlavi dei giovani il premio dubito è dedicato a tutti quelli che fanno poesia con musica sotto i 35 anni per questo c'è un giro molto adesso diciamo il gruppo militante del premio dubito ha 30 anni allora ne aveva 20 quindi sono 30 anni però che tirano in mezzo anche altri sempre più giovani perché questi questi performance diciamo ma anche presentazioni di libri anche musica anche performance di tipo teatrali si sono fatti quasi perché perché ci sembrava assurdo che comunque in una fase come quella che si stava prospettando già prima della pandemia era l'importante era uscire dai centri sociali no e quindi c'era anche questo per esempio un dibattito molto interno a Conchetta era come mai non siamo mai riusciti a coinvolgere militanti delle 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 varie comunità dei migranti milanesi non ci sono è rarissimo vederli nei centri sociali come militanti i migranti nonostante tutto quello che noi abbiamo parlato tutto quanto quello che abbiamo pensato è andato anche in questione teoriche e di riflessione niente non c'è allora col premio dubito si è pensato di fare questi itinerari che andavano dal centro alla periferia ecco questa cosa è stata fatta durante tutti questi anni solamente legato diciamo alla contro cultura che si era alla cultura dell'underground legata alla musica e alla poesia l'anno scorso dopo il primo lockdown in occasione dell'uscita del libro che ogni anno esce per il premio dubito che era dedicato al poeta Nanni Balestrini abbiamo fatto un itinerario ballestriniano così l'abbiamo chiamato insieme a tempi diversi e tutto il giro del premio dubito ed è stata una cosa stupenda con le biciclette una bicicletta che ha l'impianto voce con le batterie si è girato nei vari posti dove c'era la calusca dove era stato fatto il libro nella darsena con tantissime persone che ci stavano ad ascoltare per il libro dei furiosi di Nanni Balestrini e poi abbiamo portato tutta questa movida la piazza della movida la darsena di Milano e siamo riusciti a portare che tra l'altro la darsena è il luogo che era stato gentrificato sponsorizzato dappertutto tutto quanto poi è arrivata la pandemia sono andati via tutti ed è ritornata la radice storica del ticinese che è quella del porto e quindi siamo riusciti a portare un sacco di ragazzi che erano lì a ascoltare la storia dei furiosi che quindi erano abbastanza sui tifosi del calcio del Milan che erano abbastanza affascinanti sicuramente per i ragazzi che stavano lì nella movida e siamo riusciti a portarli tutti davanti a San Vittore al carcere per parlare appunto che leggiamo dei pezzi dagli invisibili di Danny Brestrini che è ambientato dentro il carcere di San Vittore e poi abbiamo continuato il giro con altri luoghi il Corriere della Sera tutto quanto ed è stata fatta proprio nel momento in cui si usciva dal lockdown e abbiamo capito la forza a quel punto durante il secondo lockdown abbiamo comunque fatto delle presentazioni itineranti ancora recitando le poesie di dubito ma anche anche ai libri di agenzia X abbiamo presentato ricordo uno fatto in un'altra zona della movida la luna che muove le maree con i gruppi di 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 una di meno era gennaio c'erano meno 15 gradi però siamo riusciti a tenere anche quasi 50 persone a farsi ascoltare anche noi in giro per la strada e poi è morto Lorenz Ferlinghetti 101 anni il padre delle controculture la questione San Francisco per chi per chi conosce un po' la storia delle culture underground è la culla da dove forse poi è partito tutta questa questione Lorenz Ferlinghetti era è morto e abbiamo deciso come tempi diversi premio dubito agenzia X e la calusca la calusca come sapete si chiama calusca city lights quando è venuta in conchetta la calusca il primo moroni decise di chiamarla calusca city lights e mandò la letessera numero uno a Ferlinghetti il quale venne a trovarci un giorno che non sapevamo infatti se guardate sulla pagina sulla home page dell'archivio primo moroni c'è la foto di Ferlinghetti in mezzo di noi tutti militanti della calusca e di conchetta intorno alla figura di Ferlinghetti abbiamo deciso di fare il Ferlinghetti corner il Ferlinghetti corner adesso mi sto un po' dilungando scusate non lo so il Ferlinghetti corner era recitare le poesie di Ferlinghetti con l'aiuto dei musicisti sempre nelle zone della Movida uscire fuori oh abbiamo aggregato argentini peruviani filippini arabi perché facciamo tanto casino con queste poesie straordinarie male 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 questa vita è male stupenda poesia di Ferlinghetti e finivamo sempre in un e qua è appunto grosso è questo finivamo sempre in un piccolo anfiteatro in pieno centro milanese dove ci sono tutti uffici e di notte si può fare casino già lo facevamo col premio dubito anfiteatro porlezza un giorno andiamo lì a fare il Ferlinghetti perché lo facevamo anche due volte alla settimana andiamo lì ormai era finito il lockdown e troviamo le ruspe hanno distrutto il piccolo angarengario di via porlezza vicino a Cairoli perché conosce Milano proprio in centro l'hanno distrutto il comune ha deciso che quel anfiteatro così prezioso nel momento in cui tutti i negozi birrerie bar ristoranti buttavano fuori i loro i loro tavolini per un tornaconto personale economico orrendo la cultura non aveva nemmeno quel piccolo spazio lì per esprimersi in maniera gratuita e pubblica abbiamo tentato di difenderlo ma ormai era distrutto abbiamo chiamato addirittura i vecchi architetti erano del pc i nostri cari nemici degli amici degli anni 70 dicono avete chiamato loro perché erano loro che avevano costruito questi anfiteatri per un sviluppo di una arte pubblica in spazi pubblici negli anni 70 con il sindaco Agnasi una volta e li avevano sparsi per la città anche nelle periferie e loro hanno parlato di questa cosa che è uno scempio perché hanno distrutto e vogliono fare la solita piazzetta con quattro panchine messe alla cazzo e i soliti ciliegi alberi di ciliegi che non se ne può più la simbologia dell'albero di ciliegi la risparmio però è veramente una roba tremenda perché fanno vedere la foto nel rendering dell'albero di ciliegi con i fiorellini rosa che però in realtà durano quanti dieci giorni forse sette neanche dieci e poi dopo diventano alberi come tutti gli altri però le fanno vedere nel rendering e la gente piace distrutto quell'anfiteatro e allora abbiamo lanciato come premio dubito Agenzia X Calusca e premio dubito una situazione anfiteatro ricamiandoci un po' ai situazionisti questa situazione anfiteatro perché abbiamo scoperto che naturalmente non era l'unico anfiteatro in città ce ne erano ben dodici in città e quindi adesso ogni mercoledì ogni mercoledì alle sette oggi anche oggi ci si farà una roba su Genova infatti al Parco Sempione al Parco Sempione purtroppo non posso esserci perché ho partecipato sempre a tutti è un happening dove porta la tua arte si dice così porta la tua arte proprio in termini un po' un po' nascosti anche tipo rave un po' happening proprio dell'underground ispirato a Ferlinghetti che infatti l'happening inizia alle 19 con una poesia rigorosamente di Ferlinghetti e dopo vengono chiamate tutte le varie comunità di migranti a fare la loro arte abbiamo trovato i tamburisti argentini i rapper peruviani tutta la questione della trap che a Milano è molto forte del quartiere San Siro soprattutto di migranti di origine magrebina o marocchina o egiziano o tunisina e ultimamente ci sono presentate anche un gruppo di donne filippine che fanno percussione tirando in mezzo una strana danza che io non conoscevo nemmeno che coinvolgono proprio questa cosa alla fine poi c'è la jam session che inizia prima col cantatorato poi con i gruppi rock e finisce chiaramente in un rave e poi la polizia ci caccia via adesso qua non finiremo con un rave ma abbiamo il concerto che sta per cominciare Marco dopo sarà con noi insieme ai pancreas qui dallo studio insieme al nostro regista Gianluca Pino Pizzotti quindi avremo modo di continuare a parlare di controcultura mentre potrete trovare i libri di Gabriele sulla mia sinistra lì quindi vi consiglio davvero di acquistarlo perché è davvero molto interessante intanto io vi ringrazio in conclusione è difficile fare delle conclusioni rispetto a tutto quello che ci siamo detti questa sera avremmo bisogno davvero di tanto tempo per discutere di cosa non soltanto è stato Genova ma di quello che vuol dire nel quotidiano essere attivi lavorare lottare in maniera anche diversa e con le proprie peculiarità ognuno sicuramente quello che ci lascia questo anniversario di Genova è un aspetto fondamentale quello che i racconti e le storie di Genova continueranno sicuramente ad essere un campo di battaglia e un campo di scontro stasera però abbiamo visto quanto è importante far parlare i protagonisti di chi quelle esperienze le ha vissute soltanto così si possono anche smontare le false accuse e i falsi teoremi teoremi che nel corso della storia più volte sono accaduti e più volte sono stati comunque comunque smontati la storiografia quindi anche quella anzi più avanti si andrà e più diventerà un terreno di scontro lo abbiamo visto qualche giorno fa per esempio come una giornalista di La Sette ha introdotto l'intervista a Mario Placanica il carabiniere che ha ucciso Carlo Giuliani la giornalista ha detto adesso ascolteremo una bellissima intervista intervisteremo questo giovane che adesso ha 40 anni una vita a 20 anni di non vita il giovane che forse probabilmente ha sparato e ucciso Carlo Giuliani quindi se una giornalista su una televisione nazionale dice queste parole vuol dire che di lavoro ancora ce n'è tanto da fare i tribunali continuano a non fare quello che è il loro il loro lavoro ed è fondamentale quindi continuare a lottare per un mondo diverso come facciamo nel nostro quotidiano ma è anche fondamentale per continuare a raccontare quelle che sono le lotte che portiamo avanti quotidianamente io vi ringrazio ancora per la partecipazione ringrazio chi ci ha ascoltato in streaming su Sherwood.it e ringrazio tutte e tutti che siete stati qui adesso dopo di noi ci saranno i pancreas dal concerto quindi un po' dal palco quindi un po' di controcultura anche da Sherwood Festival come facciamo da anni e anni grazie a tutte e tutti